Ciao, sono Stefano Negrini di Ortodossia Estense. Oggi vi parleremo del bonding indiretto utilizzando Indirect Bonding Studio. Questo è il tema di oggi che è l'Indirect Bonding utilizzando Indirect Bonding Studio. Allora ovviamente la parte più importante di questa fase è il posizionamento bracket, come ben sapete. Allora c'è un workflow dedicato che vedete in alto. La prima parte che vi fa vedere è un overview di tutto quello che potete fare. Sulla sinistra avete anche la possibilità di scegliere il tipo di bracket che volete mettere, la libreria, la prescrizione, tutto quanto. Quindi diciamo che nella prima parte, il primo step, vi permette già di settare il software per i passaggi successivi. Le cose che dobbiamo fare nel primo step è i piani, quindi piano clusale e i tre piani nello spazio. E lo step successivo è la segmentazione. Nella segmentazione, col fatto che il software posiziona il punto FAA al centro della colonna clinica, dovete fare molta attenzione dove mettete i punti mesiali distali, che nella vista clusale per molare e premolare deve stare in relazione alle cuspidi vestibolari, quindi parallelo alle cuspidi vestibolari, e ovviamente l'asse lungo deve essere ben posizionato, quindi al centro del dente. Quindi prima posizionate tutti i punti e poi dopo agite sull'asse. Come vedete invece per tutta la parte anteriore, cioè da canino a canino, l'asse che passa dal punto mesiali distale deve essere sul margine incisale e l'asse deve stare proprio al centro del dente, mentre come vedete qua per la parte dei premolari e molari deve essere parallelo alle cuspidi vestibolari. Questo è diciamo lo standard per poter, diciamo, posizionare bene il punto FAA. Ok, qua spostiamo il pallino perché deve stare, questo è quello che determina la posizione del punto FAA, deve stare in mezzo alle due cuspidi principali della faccia vestibolare del molare e settiamo l'asse. Da questa visuale l'asse del punto mesiali distale deve essere parallelo alla superficie occlusale per avere un buon posizionamento del punto FAA. perdete tempo su questa fase perché è determinante per il lavoro che farete poi successivamente. Questa è una fase molto importante. Quando tutti i punti sono a posto, avviate la segmentazione, questa è la spilane di segmentazione, la controllate che deve essere ben posizionata, ovviamente questo divide i denti dalla gengiva, quindi è una fase molto importante. Controllato, step successivo, divisione. Bene, questo è la segmentazione. Qui potete fare un po' di scalpo, quindi modificare un po' se c'è qualche cosa che non vi torna. Adesso il software vi chiede di confermare il punto FAA, che è il punto rosso che vedete nel centro della corona clinica, quindi andate dente per dente e lo potete visualizzare in 3D nella schermata principale e in 2D nelle tre fotografie sotto. Ovviamente modificando l'asse, come si vede qui, potete modificare nell'immagine 2D, vedete che cambia la relazione col piano occlusale, che è la linea verde che vedete sotto, quindi dente per dente controllate tutte queste fasi perché queste sono determinanti. Anche se il punto FAA è ben posizionato oppure agendo sull'asse potete modificarlo. Ovviamente avete anche la funzione a sinistra per spostare il pallino del punto FAA o lungo la linea orizzontale o lungo la linea sagittale o in maniera free, cioè libera, però vi sconsiglio di farlo. Quindi continuate con la visualizzazione in 3D e in 2D. Controllate praticamente tutti i denti. Più siete precisi qua e meno problemi avrete nel posizionamento dei bracket. Ogni fase deve essere controllata al 100%. Quando siete soddisfatti, per passare al step successivo dovete bloccare i punti FAA, questi da rossi diventano verdi e quindi potete passare al settaggio successivo. che è quello della parte superiore ovviamente. Ok? Bloccati. Vedete che cambiano colore, dettono verdi. Lo stesso fate per il superiore. Quindi valutate tutto dente per dente in 3D e in 2D. Sempre la relazione fra le cuspidi e il centro dente. Validazione. Altro step. La selezione dell'arco di riferimento, quindi la forma d'arcata. Il software vi propone una forma d'arcata che è in relazione con l'in-out dei canini e dei molari. Quindi il software ne propone una. Ovviamente voi potete sempre modificarlo. Avete una libreria. Potete mettere quello che volete. oppure quello che il medico vi ha richiesto nella prescrizione. Avete la possibilità di agire sull'inclinazione del piano clusale. A destra vedete il risultato finale. A sinistra avete quello iniziale. Quindi avete sempre un po' una base per vedere dove sta andando. Ovviamente questo vale anche per il superiore. Il software programmato per mettervi la stessa forma d'arcata. ovviamente, però potete anche tenerle svincolate, queste funzioni, però diciamo che basicamente si usano le stesse forme d'arcata. Anche qui potete modificare la posizione degli archi in base ai piani. L'altro step finale è posizionamento dei bracket. Il software ne mette al centro, il centro del bracket è al centro dell'FA. Avete due librerie, una principale, che è quella che vi state vedendo adesso, che è quella per caricare i bracket solo da premolare a premolare. Avete una libreria, scegliete quello che il medico vi ha prescritto. Quindi questo è un wizard, è un passaggio veloce perché le librerie sono 600, altrimenti scegliere i bracket in 600 librerie diventa impossibile. Quindi scegliete la marca, scegliete la prescrizione, scegliete l'inch e scegliete quelli che sono metallico, ceramica, o quello che volete, quindi 0,22 con il gancio senza gancio. E questo è quello che vale per i premolari. Per la zona molare dovete selezionarli con il control e utilizzare la seconda libreria che è quella che vedete sotto. Anche lì potete o visionarvi tutta la libreria oppure avete il wizard per un passaggio diciamo veloce. A sinistra avete la malocclusione e adesso il risultato è finito. Avete la possibilità di selezionare la prescrizione, di applicarla e in automatico il software vi adatta il posizionamento dei bracket in base alle librerie che avete scelto, in questo caso l'MBT e quindi vi mette l'altezza del bracket rispetto al margine incisale in base alla libreria richiesta. Lo step successivo è movimento dei bracket o dei denti, quindi avete due opzioni. Nella parte in alto potete agire sul bracket, nella parte bassa agite sui denti. A sinistra avete sempre l'iniziale e a destra il risultato finale. Quindi anche qui come avete fatto per il punto FA avete l'opportunità di vederlo in 3D e in 2D nelle immagini sotto. Anche qua controllate tutto, dente per dente. Anche qui se una posizione non vi piace, come ad esempio in questo caso il canino, potete sbloccare il canino, quindi potete muovere. Allora, o agite sul bracket a sinistra e il dente a destra si muove, perché ovviamente cambiate la posizione che ha il bracket rispetto al filo e all'arco che avete scelto, oppure potete agire sul dente e il bracket dall'altra parte si muove ovviamente. Quindi a voi la scelta, qual è quello che vi rende più... ecco, quello che vedete sulla pressione verde è l'arco di riferimento, quindi tutto gira intorno all'arco. Anche qua, ogni volta che fate uno spostamento, la cosa da fare è cliccare il tasto che vi dice che aggiusta i denti secondo lungo l'arco di riferimento. Una cosa che vi faccio vedere, avete due visuali, una è l'asse lungo, quindi vi mette il dente in orizzontale rispetto al vostro punto di vista, quindi lo vedete come se il dente fosse parallelo a voi, oppure la visuale rispetto allo slot. Quindi questa è l'inclinazione che avranno i denti rispetto all'arco che avete scelto. Quindi quella è proprio l'inclinazione che lo slot, l'arco imprime allo slot del dente. Nella schermata in basso a destra avete la possibilità di modificare dei parametri per lo spostamento dei denti, quindi anche qui avete voi in mano un po' la situazione. Quando tutto vi aggrada, validate e potete passare allo step successivo. Anche qua stessa cosa, selezionate la libreria principale bracket premolare premolare e con la libreria secondaria i molari. Anche qui a sinistra la malocclusione, a destra il risultato finito. Controllate se la cosa vi piace, c'è qualcosa che probabilmente non va, qui ci sono magari dei precontatti e tutto quanto, quindi dovete sempre valutare tutto. Quindi anche qui, qui vedete anche la gengiva che è stata messa. Selezionate tutti i denti e li togliete le varie collisioni che hanno fra bracket e bracket, dente e bracket, in modo che potete muovervi liberamente e muovere sia denti che bracket in una maniera molto libera e senza costrizioni. Anche qua controllate sempre tutto, che tutto sia in posizione. Qui vedete la differenza del torque, ad esempio degli incisivi, rispetto all'originale. E anche qui controllate tutti gli altimetri, tutto quello che c'è. Anche qui, se un dente non vi aggrada o un elemento o un bracket non vi aggrada, anche qui potete agire o a sinistra sul bracket o a destra sul dente direttamente. Quindi avete una doppia opzione. Fate tutti i vostri controlli, controllate i punti di contatto e tutto quanto. Quando siete soddisfatti del vostro risultato, visionate il superiore e inferiore insieme. Abbiamo sistemato un po' i punti di contatto sopra. Prima erano molto più invasivi. Ecco, e questo è, diciamo, lo step ultimo che dovete fare, che è inviarlo al clinico tramite il communicate dei Treshape, in modo che il clinico lo possa ricevere e convalidare, perché non potete fare nient'altro che questo senza la convalida del clinico. Quindi è obbligatorio inviargli il caso. Questa è la prescrizione, qui avete un overview della prescrizione. Quando il clinico lo valida, in questo caso lo facciamo noi giusto per passare allo step successivo, il caso non può essere più modificato. Questo ovviamente è per avere una garanzia sul paziente che è quello che viene fatto e quello che è stato richiesto. Qui potete vedere il prima e dopo quei bracket. Vedete, i bracket sono ovviamente tutti su un arco dritto, tutti ben posizionati, sia sopra che sotto. Questo sarebbe il risultato finito dalla malocclusione al risultato finale. Bene, diciamo che questa parte che è fatta su Ortonalizer, che è quello per il posizionamento bracket, è finita. Non potete fare nient'altro. Per disegnare la dima, ovviamente dovete salvare, per disegnare la dima di trasferimento dei bracket in digitale, perché ovviamente non si fa più manuale con la termoformatura, dovete chiudere l'Ortonalizer, aprire lo stesso caso con l'Appliance Designer, che è il software che vi permette di disegnare il tray direttamente. Ovviamente Ortonalizer e l'Appliance Designer hanno lo stesso archivio, quindi potete agire sullo stesso paziente nello stesso modo. Quindi cliccate sul caso, gli dite che volete creare un nuovo apparecchio, lui ve lo apre, ve lo presenta con i bracket in posizione, questo è il lavoro che voi avete fatto su Ortonalizer, quindi però ovviamente questa è la malocclusione, perché il tray lo dovete fare, come sapete bene, sulla malocclusione. La prima cosa da fare è creare il bracket transfer model, quindi cliccate sopra, dovete selezionare il byte block che sia flegato, perché vi deve rimuovere tutti i sottosquadri, anche quello dello slot, è una fase necessaria per avere un buon risultato. Grazie a tutti. Ok, questo è il risultato. Come vedete avete la rimozione di tutti i sottosquadri che fanno carico del bracket, quindi il bracket è tutto isolato, avete questi box che vi permettono di disegnare il tray di trasferimento senza interferenze. A questo punto la seconda fase è la barra, quindi mettete un punto su ogni bracket vestibolarmente, attivate lo step successivo, vi presento una barra, ovviamente non è quella che dobbiamo utilizzare, c'è una barra apposta che si chiama tray, e questo è il tray posizionato, in un colpo solo ve lo mette, ha uno spessore idoneo vestibolare su tutti i denti uguale, perché il punto che avete messo determina lo spessore, quindi lo spessore del bracket è tutto uguale, della barra, poi lo aggiustate un pochino, aumentate lo spessore nei posteriori, perché deve avere l'ingrano anche linguale, per avere una buona stabilità, lo posizionate bene, questo anche, destra e sinistra, in modo che copra completamente la parte occlusale, quindi stabilità massima, modificate un po' la posizione dietro, perché non sia troppo invasivo posteriormente, e anteriormente invece potete ovviamente accorciarlo, perché non c'è bisogno che sia così invasivo, quindi accorciate, e lo rendete un pochino più armonico, quindi questo è già fatto, questa è una fase che si fa molto velocemente, l'ultima fase che dobbiamo fare, è controllare la parte anteriore, io generalmente i tubi li copro tutti, perché sono molto piccoli, e a volte perdono la ritenzione nel tray, è più facile così, invece i bracket io li copro, in modo che rimanga scoperta solo la parte che dà verso la gengiva, in modo che il clinico possa vedere quando il tray è in bocca, se i bracket sono ben posizionati rispetto ai denti, quindi ha una visuale aperta dello slot del bracket, e del posizionamento del bracket. Bene, adesso facciamo la sottrazione, perché dobbiamo sottrare tutto il modello, per creare gli spazi, togliamo la rimozione del sottosquadro, perché quello l'abbiamo fatto in precedenza, quindi non ci interessa più, lo attiviamo, e questo è il risultato finito, quindi abbiamo fatto gli spazi, i box per contenere i bracket, ecco qua, i bracket sono ben posizionati, una volta stampato, si incastreranno perfettamente, il tutto viene ovviamente stampato trasparente, a 100 micron, con stampanti 3D, è la soluzione migliore. L'ultima parte è tagliare il tray, perché ovviamente così è un po' troppo invasivo, su un piano piatto, in modo che possa essere stampato orizzontalmente, il software ovviamente crea due tagli, quello che interessa a noi è questo, ovviamente non la parte che viene tirata via, quindi bello lineare, pulito, e il lavoro diciamo è finito. L'ultima cosa che dobbiamo fare è mettergli un ID tag, un nome di riferimento, perché ovviamente una volta stampato è trasparente, quindi è anche difficile capire se è superiore, se è inferiore, e tutto quanto, quindi per prevenire questa cosa mettiamo il nome del paziente, gli scriviamo che è la parte superiore o inferiore, adesso questa è una prova, quindi giusto per farvi capire come funziona, quindi gli fate il ID tag. Una volta finito, lo controllate, e potete fare, ovviamente lo salvate, potete fare due cose, uno salvare il workflow, quindi avete la possibilità di salvare questo workflow corrente in modo che mettete IDB, così ogni volta che rifatto un caso avete già le impostazioni predeterminate, se vi interessa, oppure esportarlo e mandarlo in stampa, con una macchina di stampa, ovviamente è il stesso principio che abbiamo visto prima, l'ultimo è quello che serve a noi per essere salvato, e questo è tutto il workflow per l'IDB, fatto con IDB Studio di Treeshape. Mi sono piaciuti i miei vlog, se sì, sta per partire un nuovo progetto innovativo e molto interessante, quindi rimanete collegati sulla mia pagina. Ciao!